Imprese serve una legge contro le delocalizzazioni. Il Consiglio regionale vota all'unanimità una proposta di risoluzione dopo il caso GKN. Sittel, vertenza risolta, i sindacati incontrano il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo. La TIM assumerà 135 lavoratori e pagherà gli stipendi arretrati. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Si è parlato molto dei temi del lavoro nel corso dell'ultimo Consiglio regionale. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione contro la delocalizzazione delle aziende dopo le vicende che hanno riguardato la GKN. In particolare il documento impegna la Giunta a muoversi nei confronti del Governo affinché si arrivi a nuove normative. Le interviste a partire dalla Presidente della Commissione dedicata, Ilaria Bugetti. Beh sì, una proposta di risoluzione che ha trovato l'unanimità, che era una voce forte che ci veniva chiesta prima di tutto dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiamo incontrato con il Presidente del Consiglio e la Commissione qualche giorno fa ed abbiamo sentito forte la responsabilità di questo atto che ci vedesse tutti insieme combattere dalla stessa parte. Il mio è un ringraziamento a tutte le forze politiche, tutte quante, ovviamente al Presidente del Consiglio, a tutti coloro che hanno condiviso questo documento oltre agli uffici. L'abbiamo fatto in tempi rapidi ed è parte di un percorso e di un impegno che ci siamo presi in quel momento con i lavoratori e con le lavoratrici. Quello che è accaduto lì a 500 lavoratori, perché con l'indotto si arriva fino a 500, con tutte le famiglie, è una cosa che dobbiamo scongiurare. Io l'ho chiamata scempio, l'ho chiamata una vergogna, l'abbiamo definita in una maniera inconcepibile. Ecco che la Regione Toscana per quel che può deve alzare la voce presso gli enti che possano fare qualcosa. Ovviamente la decisione del Tribunale di Firenze ci ha aiutati a prendere tempo e quindi qui ringrazio la FIOM per il loro lavoro e per il loro impegno. Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengono revocati immediatamente i licenziamenti. Abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avvì il suo iter velocemente e anche in maniera efficace, quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni. E qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando, abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento. Nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina. Ecco che diventa un atto che vuol condannare un sistema selvaggio, che vede la speculazione finanziaria e non rispetta un modello di lavoro dignitoso. Noi dobbiamo sicuramente interrogarci sul modello di sviluppo che vogliamo e vogliamo farlo mettendo al centro la dignità dei lavoratori, ma lo facciamo anche nel rispetto di quelle imprese, di quegli imprenditori e anche di quelle multinazionali che invece si sono sempre comportate correttamente. Il nostro obiettivo è la correttezza, la legalità e l'etica del lavoro. La Regione deve dare un segnale forte in questa direzione e oggi abbiamo dato una voce, secondo me, che è stata forte e che spero venga ascoltata da tutte le parti, sia dal Governo e addirittura in Europa. È un impegno che abbiamo preso, il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti i protagonisti fin dalla prima parte, come ufficio di Presidenza, come capogruppi. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti, abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori, doveva essere la Toscana difendere i lavoratori della Toscana, in questo caso di Campi, ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana, quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice, ma non è sufficiente. Noi vogliamo che sia la politica e quindi il Governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori. Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione. E questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col Governo nella soluzione di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli del GKN, noi sottolineiamo due aspetti fondamentali. Il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'Aula né fuori da quest'Aula su ciò che è successo sulla GKN per domandarsi come in una società di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il luogo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutta la narrazione dell'Italia post pandemia. Dall'altro chiaramente e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte, di mitigare, cioè di evitare di buttar via il bambino con l'acqua sporca perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto e questo è chiaro ed è oggettivo, non si vada invece a fare il gioco contrario, cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentano appunto di facilitare gli investimenti in Regione Toscana. Confindustria Toscana in questo senso è stato abbastanza chiaro, siamo contenti che sia stato mitigato questo passaggio nel testo ed è quello su cui Fratelli d'Italia è disposto a giocare la partita insieme alle altre forze politiche. Il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori perché hanno le idee molto chiare, spesso anche più chiare della stessa politica, sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi, lo hanno vissuto sulla loro pelle e devo dire i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese ma veramente del tessuto produttivo del territorio che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali, vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio. I lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione, hanno fatto delle richieste precise, sono molto organizzati, determinati, li abbiamo visti anche durante la manifestazione poderosa che hanno organizzato a Firenze, finalmente veramente ha fatto piacere anche vedere che c'è un risveglio della coscienza dei lavoratori che si sentono uniti, che sono uniti nelle battaglie comuni e quindi niente, la proposta di risoluzione che parte oggi dalla regione toscana è la voce dei lavoratori verso il governo, cioè di che cosa deve contenere quel decreto anti-delocalizzazione. Ci siamo uniti tutte quante le forze politiche mandando un messaggio molto chiaro e ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone non ci sono colori e non ci sono distinzioni. Questa è una vicenda che ormai ha assunto il respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale. Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte e di vicinanza. Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara che naturalmente però deve partire da due logiche. Da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico, ecco questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro. Quindi noi sosteniamo questa battaglia però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo le imprese sul banco degli imputati quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione e che meritano altrettanto di essere sostenute. Sempre per quanto riguarda il lavoro si è risolta positivamente la vertenza Sittel con l'assunzione da parte di team servizi digitali di 135 lavoratori distribuiti fra Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto e il pagamento di sei mensilità di stipendi arretrati. Una soluzione arrivata dopo l'intenso impegno del Consiglio regionale nei diversi incontri con i rappresentanti dei lavoratori. Sentiamo i sindacalisti che sono stati impegnati nelle trattative e il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. È stata una vertenza durissima che ha visto i lavoratori con sei mesi di stipendio arretrato da riscuotere e che diciamo sia una storia molto complicata. Nell'ultimo anno, anno e mezzo si è acuita la crisi e noi ci siamo adoperati anche con l'aiuto fondamentale delle istituzioni intendendo per i comuni, la regione toscana, la prefettura e a livello nazionale i ministeri perché chiaramente dovevamo risolvere questa situazione anche visto che si parla di un'azienda che lavora nel mondo della telefonia, quindi della connessione, di tutto ciò che abbiamo vissuto nei regimi di pandemia e quindi non solo era un problema dei lavoratori ma era anche un problema del Paese perché il fatto che un'azienda importante per Team e per Open Fiber non lavorasse limitava lo sviluppo del Paese su quello che è la connettività, la fibra e lo sviluppo dell'infrastruttura. Noi siamo riusciti grazie all'enorme sacrificio dei lavoratori, all'impegno di tutte le RSU e anche delle organizzazioni sindacali a convincere Team a fare un'operazione che vorremmo fosse un esempio, cioè il committente si fa carico della problematica, facendosene carico risolve il problema e alla fine tutti ci guadagnano, i lavoratori, perché hanno un lavoro e uno stipendio regolare, l'impresa in questo caso Team perché comunque ha lavoratori formati che aiutano nell'attività principale dell'impresa stessa e il Paese perché parlando appunto di infrastruttura digitale chiaramente anche il Paese ci guadagna. Quindi il messaggio che noi oggi qui vogliamo dare, oltre al ringraziamento non formale ma sostanziale alle istituzioni che si sono sempre dimostrate attente, pronte, addirittura noi abbiamo fatto presidi e la regione è venuta giù a parlare con i lavoratori che non è proprio scontato, quindi noi oltre al ringraziamento il messaggio che vogliamo mandare è che si può fare, cioè noi viviamo tante vertenze anche sul nostro territorio che possono essere risolte se seguiamo l'esempio che abbiamo vissuto, che è un esempio appunto in cui tutti ci guadagnano, quindi con questo spirito noi oggi ora siamo qui in regione, siamo stati in comune a Campi, siamo stati in prefettura, siamo stati dall'assessore al lavoro Nardini, quindi abbiamo voluto fare questo giro che anche per dire che quando c'è un problema si viene sempre, ecco questa volta veniamo perché comunque quello è stato fatto bene quindi ecco un ringraziamento. La vertenza ha riguardato circa 140 persone su tutto il territorio della regione toscana e 230 a livello nazionale, per quanto riguarda il territorio fiorentino circa un'ottantina di persone hanno fatto appunto questo passaggio, ovviamente nel frattempo qualche lavoratore ha fatto altre scelte giustamente perché ci siamo trovati in un periodo senza riscuotere, senza avere soldi addirittura per andare a fare la spesa, sicché qualche collega ha avuto dei problemi familiari e è dovuto andare via prima del tempo, senza aspettare il risultato positivo che poi si è verificato. Appunto come diceva anche Samuele, noi siamo venuti qui per ringraziare le istituzioni perché secondo me quando tutti lavorano per il proprio compito che hanno il risultato si ottiene, in questo caso la regione ha fatto il proprio lavoro, la prefettura ha fatto il proprio lavoro e le RSU hanno parlato con i lavoratori hanno fatto da filtro affinché i lavoratori stessero calmi e dassero fiducia a tutte le istituzioni e questo è stato il risultato appagato alla fine perché tutti hanno potuto riscuotere i loro stipendi dopo sei mesi che non riscuotevano e noi le RSU l'abbiamo vissuta proprio in prima persona perché la sera i lavoratori ci amavano perché non riuscivano ad andare a fare la spesa addirittura abbiamo fatto anche delle collette per i nostri colleghi sicché la situazione è stata molto gravosa per noi, non riuscivamo nemmeno a dormire la notte pensando a come risolvere il problema sicché siamo molto contenti del risultato ottenuto e siamo venuti qui appunto a rendere una nota a tutti i cittadini perché sia ad esempio che nonostante tutto qualche volta le cose vanno come devono andare è sempre una bella giornata quando c'è una notizia positiva io penso che la politica, le istituzioni tutte debbano essere a fianco dei lavoratori sempre ascoltando le parole della sindacalista che mi ha preceduto ha detto non era scontato che la politica fosse in mezzo a noi che le istituzioni fossero in mezzo a noi invece io penso che il ruolo di un'istituzione come la nostra debba essere quella di cercare di costruire le condizioni per cui i lavoratori abbiano sempre più diritti questa è stata una vertenza difficilissima difficilissima perché non era scontato il risultato ma noi ce l'abbiamo messa tutti e ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme i lavoratori, le lavoratrici, i sindacati, le istituzioni regionali, le istituzioni locali io sono contento oggi di suggellare questo momento perché è il segno che una comunità, l'intera comunità toscana può combattere altre battaglie difficili penso a quella della GKN solo se si tiene tutta per mano solo se si tiene tutti insieme noi stiamo per votare una risoluzione che dice no alle delocalizzazioni selvagge che chiede con forza anche una norma e questo è un decreto urgente il governo dovrebbe fare su GKN in cui nel caso in cui un'azienda è sana non è possibile delocalizzare e non è possibile licenziare in questo modo credo che questa sia una battaglia di dignità che noi dobbiamo portare avanti io ho un'ossessione l'ossessione per il lavoro l'ossessione per quelle donne e quegli uomini che la sera tornano a casa e a volte si ritrovano nella condizione di non sapere come pagare una bolletta o poter andare ad acquistare del cibo e deve essere forte la dobbiamo sentire noi e sono orgoglioso che in tutte queste vertenze a partire da quella di Sitte e da quella di GKN tutto il Consiglio regionale sia insieme e questa è la nostra forza non dividiamoci mai secondo logiche politiche nazionali ma poniamo al centro sempre i cittadini le persone il lavoro questa è la sfida che ci attende la vertenza Sitte è un risultato positivo ma non abbassiamo la guardia perché ce ne sono tantissime altre vertenze che richiedono la nostra vicinanza il nostro sostegno e come dire un lavoro di comunità tutti insieme è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione